Buongiorno, sono Rosalba Gornati e sono il presidente del corso di laurea in Scienze Biologiche dell'Università degli Studi dell'Insuria. Vorrei presentarvi il nostro corso di laurea in un minuto e mi piacerebbe farlo introducendo il concetto di cellula nel mondo biologico. La cellula è la più piccola entità capace di vita propria e, come voi ben sapete, gli organismi sono costituiti da migliaia di miliardi di cellule, ognuna delle quali è capace di effettuare compiti specifici, però sempre sottostando un principio fondamentale, che è quello della collaborazione. Ed è con questo spirito che tutto il corpo docente del corso di laurea in Scienze Biologiche affronta il proprio lavoro. Quindi cosa vogliamo fare? Oltre a darvi le informazioni doverose in termini di materia biologica, quindi di conoscenze strettamente legate alla vostra formazione come futuri biologi, vorremmo starvi vicino per farvi sentire parte attiva del nostro Ateneo. Vorremmo aiutarvi ad accrescere il vostro senso di responsabilità. Vorremmo potervi accompagnare nei vostri prossimi tre anni in quella fase molto delicata che sarà di transizione tra l'uscita dalla vostra adolescenza e il vostro ingresso in quel mondo che chiamiamo degli adulti. Naturalmente senza di voi non possiamo farlo, quindi tutto il corpo docente vi aspetta numerosi al corso di studio di Scienze Biologiche. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, mi chiamo Sveva Bonomi e sono una neolaureata in Scienze Biologiche all'Università degli Studi dell'Insubria. Oggi frequento la laurea magistrale in Biomedical Sciences sempre in questo Ateneo. Perché ho scelto l'Insubria per tutto il mio percorso formativo? Perché qui mi hanno da subito fatto capire il concetto di cellula in senso biologico e non e mi hanno subito fatto sentire parte di questo organismo. Tramite la stretta collaborazione docenti che mi hanno portato ad arricchire il mio curriculum e le mie esperienze. Infatti all'interno di questo Ateneo sono anche rappresentante degli studenti in diverse commissioni. Spero che la mia esperienza possa avervi ispirato. Scegli oggi il tuo domani.